L'Asla di Bari per potenziare la campagna vaccinale anti-covid ha organizzato quattro open day per i richiami, l'8 e il 12 dicembre. Il Dipartimento di Prevenzione, coordinato dal NOA aziendale, ha predisposto un programma di aperture straordinarie con vaccinazioni a Sportello il giorno dell'Immacolata, l'8 dicembre a Trigiano, Bitonto e Alberobello e domenica 12 dicembre a Valenzano, per incentivare le terze dose e le somministrazioni di vaccino anti-influenzale, dando anche la possibilità di accesso per le prime dosi. In particolare ad Alberobello saranno destinate al personale della scuola, degli istituti della città, ma anche di Noci, Castellana Grotta e Locorotondo. Anche a Valenzano saranno rivolte al personale docente e non docente, ma anche alle forze dell'ordine e volontari della protezione civile. Per chi ne farà richiesta sarà possibile fare anche il vaccino contro l'influenza. Questa possibilità di iniettare entrambi i sieri all'interno degli hub porterà, secondo il segretario generale della FIMG Bari, Nicola Calabrese, all'inutilizzo di vaccini anti-influenzale che i medici di medicina generale hanno già ritirato dal distretto, in base alla programmazione annuale dei propri pazienti e che saranno probabilmente restituiti. Calabrese, in una lettera inviata all'ASLE e al Dipartimento Salute della Regione Puglia, ha scritto lamentando che la programmazione della campagna anti-influenzale sia saltata per la concorrenza degli hub vaccinali. Si declina qualsiasi responsabilità sul piano dello spreco e del raggiungimento degli obiettivi, conclude Calabrese a carico dei medici di medicina generale.